Prima la rivolta del Cara di Palese, poi addirittura un rapporto che denuncia come siano mille i poliziotti della stradale picchiati da automobilisti sulle strade delle vacanze. Un lavoro duro quello dei poliziotti, anche se qualcuno non la deve pur fare, certo non è semplice stare sotto il lancio delle pietre degli immigrati o a condividere con i detenuti le pessime condizioni delle cacceri pugliesi. Siamo andati a parlare con il segretario provinciale barese del sindacato unitario di polizia per sentire per una volta la loro voce. I centri in cui questi extracomunitari vengono stipati scoppiano al pari delle prigioni che sono piene anch'essi, soprattutto di extracomunitari, oltre che di persone che sono incorse nei regori della giustizia a causa degli inasprimenti delle pene che in questi anni sono stati previsti da legislazioni restrittive, per esempio sul campo degli stupefacenti, eccetera. Si capisce che non è gestibile dal punto di vista umano e sociale una situazione di questo genere. Le soluzioni? Per carbone basterebbe una razionalizzazione delle risorse e un'azione di prevenzione più mirata, perché se si ricorre alla polizia significa che tutte le altre strade di risoluzione del problema, soprattutto nel caso della gestione degli immigrati, sono state fallimentari. Ogni problema di questo tipo deve essere affrontato dalla politica con uno sforzo di elaborazione, non dico di fantasia, ma di elaborazione e di ricerca di strumenti diversi, perché quelli probabilmente attualmente in uso sono strumenti che forse rispondevano ad esigenze che potevano essere valide o apprezzabili due o tre anni fa.